Che Benito Viola è l'impresario più serio che c'è nel sud e nella Calabria. Grazie, grazie veramente. E sono lieto e felice di presentare un cantavotore, un artista veramente favoloso, il signore Sandro Giacobbe. Buonasera. Benito Viola che tutte le volte che ci chiama rispondiamo sempre con affetto a questa amicizia che dura da tanti anni. Infatti inizialmente dicemmo ma dobbiamo arrivare fino in Aspromonte, dice sì sì fatelo per me e noi abbiamo accettato l'invito. E allora poi... Tutti i telespettatori di Televiola un saluto e un abbraccio e riderete rideranno i vostri cuori matti di felicità. Ciao. Io ti ringrazio, Little Tone è un grande amico anche di Benito Viola, quindi questa sera ci siamo venuti a trovarlo. e spero continuare come sempre il tuo successo perché sei un unico artista come loro... Togli gli occhiali, togli gli occhiali, fai presto. Verrà, verrà il momento, ma il momento, amore mio bello, dipende da me. Tu che hai sempre comandato, questa volta l'hai trovato, chi comanda più di te. Sì, ma l'amore è un vagabondo, gira gira per il mondo, ma finisce sempre lì. Quella che senti suonare non è una campana, è la mia mano che bussa per... Queste notti senza luna, rattristano il cuor, non si vedono le stelle, compagnie d'amor. Ed io mando la mia voce lontano, in cerca del sereno, per farmi ascoltà. La voce mia, oltre le lumone, ti seguirò con note languide. Porta il mio cuore là da lui, che ascolterà le mie parole. La voce mia non devi piangere, come l'è mio cuore, che più non ha tanta speranza di incontrare il grande amor. L'unico amore della mia vita, tornerà alla primavera, e allora potrò rivedere quelle stelle, compagnie d'amor. E sentire la mia voce nel cielo, cantare e sospirare insieme al mio cuore. Per te il sentimento, e la scu canta, e forse il grande amore ascolterà, e il mio cuore sorriderà. E' il nostro menestrello. Mi sembra che c'è la signorina che vuole fare qua. Benito Viola è l'impresario più serio che c'è nel sud e nella Calabria. Grazie, grazie veramente. E sono lieto e felice di presentare un cantavotore, un artista veramente favoloso, il signore Sandro Giacobbe. Buonasera. Come stai? Viola che tutte le volte che ci chiama rispondiamo sempre con affetto a questa amicizia che dura da tanti anni. Infatti, inizialmente dicemmo, ma dobbiamo arrivare fino in Aspromonte. Dice, sì, sì, fatelo per me. E noi abbiamo accettato l'invito. E allora poi... A tutti i telespettatori di Tele Viola, un saluto e un abbraccio. E riterà, riterete, riteranno i vostri cuori matti di felicità. Ciao. Io ti ringrazio. Little Tony è un grande amico anche di Benito Viola. Quindi questa sera siamo venuti a trovarlo. Spero... Continua come sempre il tuo successo perché sei unico artista come loro... Vedete? Togli gli occhiali. Togli gli occhiali. Fai presto.